Buonasera, intanto mi presento, io sono Iabri Adamo, vengo dal Burkina Faso, lavoro alla Bartoline, sono il delegato dell'ADL, rappresentante dei lavoratori. Parlando della mia esperienza alla Bartoline, lavoro lì da otto anni, dal 2002 sono otto anni, dove che devo parlare è il momento del lockdown che è stato terribile, ma noi durante quel periodo là abbiamo sempre continuato a lavorare, non abbiamo mai smesso di lavorare, in questi ultimi tempi qua, nel mese di agosto abbiamo avuto il caso della pandemia da noi, abbiamo avuto dei lavoratori che sono stati contagiati, è stato duro, è stato difficile, sia per tutti, in quel periodo là chi era contagiato e chi non era stato contagiato sono rimasti a casa e la cosa principale che io come delegato che dico e devo rivadire, magari lottare nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, ci sono dei precari che lavorano durante quel periodo lì che noi come su forma che abbiamo contratto indeterminato e siamo rimasti a casa per scelta o per non scelta perché c'è che stava male e stava a casa e c'è che stava anche bene, stava a casa per precauzioni per procedere se stesso e anche la sua famiglia e i precari non avevano una scelta, c'è che era negativo, ha dovuto lavorare e c'è che non ha avuto il tempo a fare il tampone a tempo adeguato, comunque ha continuato a lavorare finché è stato fatto il tampone e quei ragazzi là che io dico, devo fare appello qua, magari anche più avanti, ci sarà la lotta per loro, che c'è che ha lavorato durante quel periodo di là, almeno che venga riconosciuto il suo valore, in modo in cui ha lavorato durante quel periodo là che nessuno non aveva voglia di lavorare, neanche voglia di entrare in magazzino, non parliamo neanche di lavoro, perché c'è che c'è che vai a lavoro e guarda quel magazzino là, per adesso no, per adesso no, per adesso no, finché la situazione adesso è stabile, abbiamo ripreso a lavorare normalmente, quindi è stata veramente dura, anche io sono rimasto in quel periodo, l'ho fatto quasi un mese a casa e so che non è stato semplicissimo e parlando della lotta del 23, devo chiamare tutti che hanno la possibilità di partecipare sul fatto che abbiamo, con le lotte che abbiamo avuto, abbiamo avuto dei miglioramenti, ma mi sa che i miglioramenti non bastano mai, perché la vita cresce e noi abbiamo sempre, magari uno ottene una cosa e la cosa che ha ottenuto deve essere un punto di partenza, perché se un lavoratore dice che adesso sono a posto, il padrone cosa deve dire, perché sempre se il lavoratore dice che sto meglio, io penso che il padrone sarà ancora più meglio, quindi vuol dire che la lotta non può finire e limitarsi dicendo che adesso ho un stipendio, quindi a me basta, lotta, basta lotte, perché una volta abbassi la guardia, il padrone ti toglie tutto quello che hai ottenuto durante la lotta, quindi io chiamo massivamente che le 23, il giorno in cui ognuno che ha la possibilità di partecipare, che è importante su tutti i punti di vista, perché i salari, i bassi non ti permettono di vivere in questo periodo qua, uno si una alla famiglia con un stipendio basso, da adesso non riesce neanche a pagarsi l'affitto, a pagarsi la macchina e viviamo in un paese in cui il trasporto pubblico non è sufficiente, chi che non ha la macchina è difficile spostarsi qua, non è che, tipo io sono andato in Germania, a Hamburgo, ho visto i medi di trasporto come sono, appena che scendi dal tram, c'è un altro tram, appena che scendi dal metro, hai un altro metro per scambiarsi, ma qua uno mette due o tre ore a aspettare un autobus che non arriva mai, io mi ricordo quando ero giovane sono arrivato qua, avevo 17 anni, avevo dei amici che abitavano fuori città, a una certa ora dovevano chiamare i loro genitori a venire a prenderli in macchina, quindi vuol dire che siamo in un paese in cui uno non ha la macchina, non può vivere, quindi con tutti tutti i fattori qua per me è importante lottare per avere un salario adeguato per la vita migliore per tutti e se parliamo su quel punto di vista anche sul punto scolastico, la scuola costa, l'università costa qua, quindi per un genitore che non ha la possibilità di mandare un figlio a scuola, vabbè a scuola lo fa, ma arrivare a un certo punto che gli serve dei soldi per poter mandarlo all'università, fa fatica e dopo dicono che non hanno voglia di studiare, non studiano, non studiano, ma se le condizioni non sono migliori per far studiare il figlio non è colpa del papà, non sarà neanche colpa del figlio e in quel caso là non ci sarà cambiamento, sarà la stessa cosa perché se il papà non riesce a fare per il figlio, il figlio di conseguenza non riuscirà a fare anche per il suo figlio, quindi sarà una catena continua, non finirà mai, quindi tutte queste lotte qua servono per cambiare la nostra vita, la nostra società, il nostro mondo, quindi come immigrato devo anche dire che noi immigrati, perché ci devo parlare, devo sempre parlare dell'immigrazione, noi immigrati parlando dell'ambiente e su quel punto là noi siamo veramente toccati su quel piano del trasformato, le parole non mi vengono scusate, per noi immigrati sul fatto del clima siamo molto 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 più toccati perché viviamo nelle condizioni non troppo all'avanguardia come qua, quindi quando piove un po' la situazione è più terribile da noi, quindi il mondo deve fare qualcosa per poter cambiare quel sistema là e so che diranno che è impossibile ma io vedo che niente non è impossibile, dopo il lockdown che noi pensavamo che il mondo non poteva neanche fermarsi un minuto e durante quel periodo siamo stati due o tre settimane a che nessuno non si muoveva, dice ma il mondo poteva fermarsi perché in quel periodo sì, uno diceva un giorno prima uno diceva che il mondo si fermerà e nessuno non si muoverà come? Sì, i aerei viaggi, i treni vanno, le macchine corrono e il giorno dopo stop, nessuno non si muove, io mi ricordo che partivo a luna, a mezzanotte comincio il lavoro a luna, a mezzanotte prendo la strada, non vedo nessuno, neanche una macchina da qua a Casale, neanche una macchina per strada, magari vedi una macchina ma soltanto la macchina della polizia che ci fa il controllo quindi veramente erano periodi paurosi ma dicono che è impossibile, io dico tutto è possibile quindi nella vita si può sempre fare meglio e tutto è sempre possibile, quindi non ho altro se devo concludere, devo ringraziare Lorenzo, ringraziare Sergio, la Diel Cobas, Django che è l'uggero che ti rappresenta quindi non ho niente da aggiungere, grazie, grazie. Grazie 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 Grazie